Oh yeah yeah, oh yeah 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 Prego i candidati di avvicinarsi al palco Cari concittadini, buonasera Stiamo a San D'Arpino a sottolineare che ormai San D'Arpino non ha più periferie, ha solo centro e anche questa piazza fa parte del centro di San D'Arpino Incominciamo a sfatare i luoghi comuni che qualcuno continua a dire da anni che siamo periferia Voi fate parte a pieno titolo del centro del paese, anzi centro storico Questo posto esiste a San D'Arpino da oltre 50 anni Prego i candidati di avvicinarsi al palco e di iniziare a salire, grazie Allora, siamo nervosi eh, signor Capone Prego salire sul palco Elpino Arena Il nostro piccolo grande uomo Sarà uno che apporterà esperienza notevole in questa amministrazione, cari concittadini Invito la signora Iolanda Boerio Che stasera non presento, in quanto lei stessa vi dirà due parole E quindi evito di appellarla come dovrebbe essere fatto Grazie Buonasera a tutti E grazie per essere qui presenti così numerosi Devo presentarmi, anche se molti di voi mi conoscono in quanto docente e coordinatrice del plesso Dell'appresso dei amici del circolo didattico di San D'Arpino Che come molti di voi già fanno Da settembre con la missione della scuola media Vincenzo Rocco Siamo diventati istituto comprensivo Sono Iolanda Boerio, presidente della commissione Pari Opportunità al Comune Referente dello sportello d'ascolto antiviolenza Noi Voci di Donne Che rappresenta una novità sul piano sociale Dato che San D'Arpino è stato il primo comune a Tellano ad offrire tale servizio Un servizio gratuito che mai come in questo momento così drammatico per la storia del nostro paese Ha ragione d'essere Purtroppo i dati di violenza sulle donne sono in aumento E non sempre le persone hanno la forza di denunciare O quando ci riescono trovano sossegno nelle istituzioni In questo senso va il nostro contributo Grazie anche alle attività progettuali svolte a sossegno delle pari opportunità Tutto ciò è avvenuto grazie all'operosità e dedizione del sindaco di Santo Che ha creduto fortemente nell'importanza di uno sportello d'ascolto per le donne E l'importanza stessa delle pari opportunità La mia candidatura è mossa anche dall'esperienza maturata in questi anni E con lo sportello In questi mesi ho avuto modo di ascoltare tante storie Tante donne, il loro vissuto non certo facile Che ogni giorno mi ha incoraggiata a perseverare Poiché non è facile trovare le parole davanti a certe situazioni familiari Per questo ritengo opportuno impegnarmi ancora di più Entrando direttamente nelle istituzioni Per poter finalizzare l'attività politica al bene della collettività Come per ciascun candidato dovrebbe essere E in particolare a quella parte della comunità disagiata e sofferente Il rapporto con le persone rappresenta per me un continuo di crescita umana Ascoltando si fa tesoro delle esperienze altrui Si è indotti a riflettere e si è stimolati ad agire In questa direzione va il mio percorso Che ho intrapeso con la mia candidatura Come docente inoltre mi sento maggiormente responsabile Di una comunità che trova anche nella scuola un riferimento costante Non solo per l'educazione e l'istruzione dei propri figli Ma anche perché la scuola affianca la famiglia Nel trovare le risposte alle esigenze e alle difficoltà E quale migliore coalizione avrei potuto scegliere Se non quella capeggiata dal sindaco di Santo Sempre attento alle problematiche della scuola Sempre pronto ad intervenire allorquanto si presentano particolari necessità E per particolari necessità non intendo la carta igienica Che per fortuna non è mai mancata E per le quali non chiediamo Non ci saremmo mai sognati di chiedere soldi alle famiglie La scuola non chiede soldi per le necessità materiali Alle quali ribadisco che si occupa l'amministrazione Talvolta la scuola chiede un contributo facoltativo Per le attività di laboratorio Che con i tagli ministeriali conseguenti alla crisi economica Non può assicurare il meglio per i bambini Non ci toccano quindi le accuse di qualcuno Che prima di accertarsi di fatto Ha cercato ingiustamente senza averne nessun riscontro di denigrarci Ci si scandalizza di due euro chieste per le attività di cui dicevo Ecco qua Questa è la ricevuta di un genitore Che presso una scuola versana Ha sostenuto una spesa di 75 euro Per contributo materiale scolastico Gentili signori I tempi sono tristi Ma con le bugie non si va da nessuna parte Grazie Ciao ai candidati A salire sul palco Camisa Domenico Il nostro grande uomo Sempre presente per le attività sportive Il comune di Sant'Arpino Ormai da tempo Capaz Antonio L'architetto professionista Sempre disponibile in mezzo a noi Cinquegrana Gennaro Serio e disponibile Senza alzare la voce Come fan qualcuno Di cui non conosciamo ancora origine e stirpe Cinquegrana Manuela Una delle nostre dolci signore Che hanno la voglia Di mettere a servizio della cittadinanza Il loro lavoro gratuitamente Per voi Diserio Maurizio Un'altra persona che Considerate serissima Per esperienza Nella vita ho conosciuto tante persone Maurizio è una persona serissima Fioretti Gianluca Il nostro vice sindaco Chi di voi ha sentito parlare di Gianluca? Il nostro caro dottore Sempre a servizio dei cittadini da decenni Guarino Antonio L'ingegnere Guida Andrea Che tra poco chiamerò Per parlarvi Per cinque minuti Lettera Angela Maria Angelo L'avvocato lettera Si è assentato un momentino Adesso ve lo ripresenterò alla fine Il signor Pezzone Francesco La sua bontà e la sua competenza La conoscono in molti L'altra signora gentilissima Che abbiamo in lista E' la signora Quattromanni Immacolata Presente sempre a Sant'Arpino Per le attività sociali E che conoscete in molti L'altra signora Salino Angela A cui facciamo un augurio fortissimo Per il doppio Rispetto agli altri La signora Verlese Giovanna Architetto Insegnante Grazie Il nostro carissimo E' pluridecorato Per quanto riguarda la politica Paesana Aldo Zullo Chiedo di intervenire Per quanto riguarda Il sesso maschile Dei rappresentanti Nella nostra lista L'ingegnere Andrea Guida Buonasera Buonasera a tutti Come molti di voi Già sapranno Visto che sono nato e cresciuto In questa parte di Sant'Arpino Sono Andrea Guida Candidata a consigliere comunale Nella lista Sant'Arpino Democratica Che vuole la riconferma Di Eugenio Di Santo A sindaco di questo paese Sin da piccolo Mi sono sempre augurato Di non dover andare via Perché volevo agire Ed operare qui Nel paese che amo Nonostante sappia Che ci sono delle cose Da cambiare e da migliorare Convinto Che non bisogna Piangersi addosso Quando le cose Non vanno per il verso giusto E che la critica Deba essere sempre Accompagnata da una proposta Ho sempre sperato Di poter avere i mezzi Per non poter I mezzi per poter Non solo parlare Ed ascoltare Ma anche di fare E questa La mia La motivazione Della scelta Del mio impegno In politica La mia candidatura Nasce quindi Dalla volontà Di mettere a disposizione Non solo le mie competenze Ma anche La volontà Di ascoltare Le proposte Di tutti i cittadini Che siano E non siano Nostri elettori Sono cosciente Delle notevoli difficoltà Che si incontrano Quando ad operare E decidere Per il bene collettivo Sono più persone Ma la speranza Che molti candidati Fossero giovani Desiderosi Di poter migliorare Le cose Nelle liste Di Eugenio Di Santa È stata fatta La nostra lista È nata La volontà Di mettere insieme L'esperienza Di chi ha già operato Sul nostro territorio Con l'entusiasmo Di chi si cimenta Per la prima volta In politica Con il programma Amministrativo Della nostra lista Molti obiettivi Che sembravano lontani Sono diventati Realizzabili Chi non vuole Un apparato burocratico Più efficace E maggiormente Al servizio Del cittadino Il nostro programma Prevede interventi Per migliorarne La funzionalità L'esigenza Di più trasparenza Sul bilancio E sulle risorse Di tutti Il nostro programma Prevede che venga Facilitata La visibilità Di tutti gli atti Ad essi relativi Tanta attenzione Viene data Alla problematica Della disoccupazione Giovanile Proponendo Tra le tante altre Iniziative La creazione Di cooperative sociali Tra giovani E disoccupati A cui affidare L'espedamento Di servizi Che non sono Di competenze comunali Queste Sono solo Alcuni esempi Delle iniziative Del nostro programma Che è stato Recentemente Distribuito E consultabile Online Il programma Non è generico E ricco Solo di buoni Propositi Ma è articolato In una serie Di interventi Che miglioreranno Questo paese E la vita Dei suoi cittadini Per esempio L'approvazione Definitiva Del piano Urbanistico Comunale Darà Nuovo slancio Al commercio E all'artigianato Con la possibilità Di creazione Di nuovi posti Di lavoro Anche la stesura Del programma È stata vicina Alle mie aspettative Infatti Non ci sono Promesse Di cose Bellissime Irrealizzabili Ma tanti Progetti Realmente Eseguibili Che insieme Miglioreranno La qualità Della nostra vita Questo modo Di operare È vicino Alla mia natura Di politica Di moderato Non condivido Gli estremismi Né le critiche Non propositive Né mi piace Denigrare gli altri Per apparire migliore Gli ambienti Politici moderati In cui sono cresciuto Mi hanno abituato A cercare Di guardare Il merito Delle cose E non le persone Da cui provengono Solo in questo modo Si è più obiettivi E si diventa migliori In questa ottica Mi candido Ad essere referente Di tutti i cittadini Ed in modo particolare Dalla zona starza Dove sono nato Chiediamo a tutti quanti voi Un impegno serio E concreto Abbiamo bisogno Della vostra Produttiva collaborazione Che vada oltre La manifestazione di voto Dopo le elezioni Vi invitiamo Ad esercitare La vostra indispensabile Funzione di controllo Che ci consentirà Di continuare A percepire Le reali necessità Del paese Ascolteremo In ogni momento Le richieste E le proposte Che ci farete Senza alcuna discriminazione Solo così Potremmo rimanere fedeli Agli impegni Che oggi ci stiamo Assumendo Con voi Dettati esclusivamente Dall'amore Per il nostro paese Grazie Chi mi conosce Sa che l'impegno politico Mio personale Ormai Raggiunge Il quarto di secolo Abbondante E sa anche che La storia È stata sempre La mia passione personale E soprattutto La storia di Sant'Arpino Che ha dato lustro Alle nostre terre Ancora oggi Ci inorgoglisce Quando diciamo Di essere atelani Voglio Prima di presentare Una persona Che stimo Da sempre Da quando ero bambino Perché è stato il mio medico Da quando ero bambino Voglio Ricordare un grande Atelano Una persona Che è stata sindaco Per dieci anni A Sant'Arpino E ha fatto politica Partendo dal popolo E vivendo Sant'Arpino Pienamente L'avvocato Legnante Un giorno Oltre 40 anni fa Rivolgendosi A dei giovanotti Oggi si direbbero Vivellini Disse Giovane Troppo giovane Amico Ed oggi Non posso far altro Che rivolgermi Altrettanto Al nostro Giovane Ma troppo Troppo Giovane Amico Che ha avuto L'onore Di essere candidato A sindaco A Sant'Arpino Nessuno Nessuno di noi Sa da dove è uscito Nessuno di noi Conosce la sua storia politica Non sappiamo Quale partito Lo ha indicato Non sappiamo Chi ha alle spalle Ma sappiamo Che con arroganza Senza programmi Con delle idiozie Vere e proprie Che propone Al suo elettorato Viene anche In questa piazza Storica Di Sant'Arpino A dire Noi faremo Noi diremo Noi siamo Non so Chi tu sia So solo Che adesso Presenterò Un medico Che ha sempre Dato lustro Al nostro paese Ed è stato Mio medico Da bambino E mi onoro Di averlo qui Con me Alberto Plazza Viene quasi Da piangere Buonasera Buonasera A tutti È sempre un piacere Vedervi In effetti Io non sono candidato In questa campagna Elettorale Però devo ringraziare Il signor sindaco Perché ci teneva tantissimo Che io fossi presente qui Perché in effetti Essendo io Un uomo pubblico Conosco quasi tutti E quanti voi E devo essere sincero Per me questa è una festa Contrariamente a quello Che vanno dicendo I nostri avversati Che noi facciamo Le feste paesane Ma siete tutti quanti Belli Bellissimi Sereni Siete tutte le persone Che siete venuti qui Con il sorriso Sulle labbra E non siete sicuramente Stati portati Con le pistole Con i fucili O eventualmente Costretti A venire qua Questo è un segno Di semplicità Di simpatia Di amore Di partecipazione Di rispetto Nei riguardi Del signor sindaco Poi vi spiegherò Perché lo chiamo Signor sindaco E questa non è la mia Prima campagna elettorale Qualcuno va dicendo Che io ne ho fatte tante Con il padre di Brancaccio E via discorrendo Beh in effetti Insomma non è la prima È l'ultima Però quello che io noto In questa campagna elettorale È una cosa di uno squallore enorme Nel senso che Probabilmente Ve ne siete accorti voi Se avete partecipato A qualche dibattito Questa campagna elettorale È caratterizzata Da un personalismo Tra l'altro Anche stamattina Mi riferiscono Che in piazza Umberto Prima Si sono toccati Dei toni Così strettamente personali Che è quanto Di più squallido Ci possa stare Per chi voglia fare La politica Chi sale su un palco Dovrebbe difendersi Come mi difenderò io Tra poco Ma nello stesso tempo Dovrebbe dare Qualche cosa Di propositivo a voi Perché certamente Venite a sapere Che questo è così Quell'altro è così Che io sono un traditore E via discorrendo Non è che vi interessi Granché Interessano i fatti Interessa sapere Che cosa noi vogliamo Per questo paese Che cosa noi vogliamo Soprattutto per voi Ed è probabilmente Per questo Che io ringrazio Il signor sindaco Eugenio Perché mi ha invitato A salire su questo palco Torno a ripetere Probabilmente Voi vi meravigliate Del fatto Che io uso La parola Signor sindaco Però Qualcuno di voi Che probabilmente O forse non probabilmente Che lo dirò io Ha ascoltato Il mio comizio Del 14 Io Chiamavo Eugenio Amico Perché lo ritengo Un amico Perché tra me Lui precedentemente E successivamente Io vedo qui la moglie Ho seguito i figli Insomma C'è un rapporto bellissimo Un rapporto Dettato da simpatia Da cordialità Da rispetto reciproco Non ci siamo mai Scambiati delle parolacce Insomma L'accordo tra noi È nato spontaneo Perché siamo due persone Abituate a vivere In un modo semplice Nessuno di noi Ha mai cercato Di mettersi dietro A una scrivania Atteggiandosi A chissà che cosa Io faccio il mio lavoro Con umiltà E il sindaco Fa il suo lavoro Con umiltà Però vedete Però vedete Avendo chiamato Il signor sindaco Amico Qualcuno Mi ha chiamato Traditore Perché dice Che io Mi sarei permesso In un luogo pubblico In modo molto privato Di parlare male Di Eugenio Parlano infatti Cinque anni Di amicizia Di collaborazione Amministrativa Con Eugenio Stanno a dimostrare Quello che in effetti Io penso E che cosa ritengo Del nostro carissimo Amico Eugenio Di Santo Però il laureato In giudisprudenza Che si è permesso Di dire queste cose Probabilmente Probabilmente Io faccio il medico Non faccio l'avvocato Non ho Diciamo competenza Di studi giuridici Ma probabilmente Lui avrà fatto Anche un esame Di diritto penale A quale probabilmente Un 18 maggioranza Gli l'avranno dato Perché chi fa Diritto penale Sa perfettamente Che quando una persona Accusa un'altra Deve avere delle prove Le prove tangibili Le prove da dimostrare E voglio arrivare anche Voglio arrivare anche All'estremizzazione Di certi discorsi Che si sono potuti fare Succedono nelle migliori famiglie Tra marito e moglie Ci si bisticcia Si ritorna all'amore Si può aver detto Qualche parola Che probabilmente Potrebbe essere In quel contesto Una parola Che poteva dare fastidio Però poi tutto finisce Tutto tace Questo personaggio Questo dottore In giurisprudenza Probabilmente Estrapolando Da certi discorsi Certi frasi Ha ritenuto opportuno Chiamarmi traditore Traditore poi Perché avrei Avrei Non solo fatto Un tradimento Addirittura Sei tradimenti Cioè io Nella mia vita Credo Non avrei mai tradito Nessuno Addirittura Secondo questo personaggio Avrei tradito Sei volte Allora a questo punto Parliamo di pochissime cose E che cosa Avremmo dire Del suo sodale Gianfranco Fini Di Bocchino I quali sono partiti Nel movimento sociale E poi sono arrivati A Flia Andandosi Alleare Con Monti E quindi Questo non è un tradimento La persona pura La persona che ha il DNA Puro Immacolato Queste cose Qui lui Non le riesce a concepire Quelle che sono Dele normali evoluzioni Dialettiche Nell'ambito della politica E comunque riguardano Tutti Dal suo schieramento E anche dal nostro schieramento Per lui Vengono tacciati Come tradimento Ma d'altronde Il dottore in legge E appunto Una persona che ha un DNA Immacolato Lui è abituato a parlare In faccia alla gente È abituato a dire Quello che pensa E allora io mi ricordo Perfettamente Che lui chiamava Fandullone E il pio del prete Nominato da lui Uomericano Insomma Con senso dispregiativo Ora ci sta insieme E questa è la cosa Più grave Cioè io sarei un traditore Lui però se la fa Con delle persone Che etichettava Come Fandulloni Cioè gente che non lavorava E invece ci va a lavorare Ci va a fare Un'associazione politica Un compromesso politico Insieme È la stessa cosa Di quello che diceva Anche di Savoia Ora però Lui va a collaborare Con quelle persone Allora Giusto per Giusto per Chiarire certe cose Chiedo scusa C'ho tempo per parlare Sì posso Allora Giusto per chiarire Certe cose Io In questo momento Sono stato invitato Dall'amico Eugenio E sono qui con piacere Perché mi piace Confrontarmi con voi Mi piace confrontarmi Con i candidati Voglio dare spazio Ai candidati Però Io non sono In veste politica E qualcuno va dicendo Io probabilmente Vado millantando Di essere un esponente Della destra Un esponente Che appartiene Allo schieramento Del PDL Di fatto Io ho una tessera Del PDL Però qualcuno Sempre il nostro famoso Dottore in legge Va dicendo Che io sarei stato Espulso Dalla PDL Io non parlo A nome del PDL Perché probabilmente Qualcuno di voi Dovrà rivolgersi A chi l'ha visto Perché qui a Sant'Arpino È il primo partito Però di fatto Non esiste una PDL A Sant'Arpino Cioè lui dice Che io In cinque anni Di legislatura Dice che io In cinque anni Di legislatura Non sarò ricordato Assolutamente Per niente E io mi chiedo Lui in tre anni Quattro anni Di coordinamento Del PDL A Sant'Arpino Se vi risulta Che il PDL A Sant'Arpino Esiste come entità Politica Strutturata Sul territorio Di Sant'Arpino Ma non mi sa dire Perché io onestamente Io ho tesserato Ho telefonato Appunto nel dubbio Che io potessi essere Diciamo stato espulso A Roma E mi hanno detto La sua tessera è valida Però mi dovete venire a dire Il PDL a Sant'Arpino Dove sta Ma il PDL a Sant'Arpino Ci sta È Capone È Capone È Capone Il quale va Billantando A destra e a sinistra Che lui è il rappresentante Del PDL a Sant'Arpino Signori Queste sono delle bestemmie Questa persona Non soltanto offende me Offende il sindaco Offende Brasiello Offende la famiglia del sindaco Ma si permette anche Di darsi una veste Una veste di appartenenza Ad un movimento politico Che io In quei pochi anni Che ho frequentato E anche informandoli Non ho mai visto Questo personaggio Avesse mai frequentato Quindi siamo proprio All'assurdo Nel vero senso della parola Quindi sono dei personaggi Che si arrampicano Sugli specchi Per cercare appunto Di ottenere qualche cosa Però è la storia La loro praticamente Il loro percorso politico Che li condannerà Comunque Chiudiamo qua Ho parlato Dei miei fatti personali Parliamo di una campagna elettorale La campagna elettorale Come diceva È improntata Al più bieco Personalismo Personalismo In piazza Probabilmente Ci dovrebbe stare Il mio avvocato Che non vedo Ma sicuramente ci sta Perché mi ha detto Dottore io vengo Perché sapete Nello scorso comizio Io avendo detto Le cose Assolutamente Non credo offensive Molti di voi Probabilmente Mi hanno ascoltato Alla fine Mi sono ritrovato Una citazione Signori Per danno Di 50.000 euro Alla unit credit Vi rendete conto Io con le mie parole Con le parole Io avrei arrecato Un danno A questa ditta Al bilancio Di questa ditta Di 50.000 euro Cioè qua ci troviamo Di fronte A una persona Che con la testa Non ci sta È una persona Che una campagna elettorale Sta riempendo I tribunali Di querele E che si permette Di denunciare me E citarmi Per un danno Di 50.000 euro Perché avrei arrecato Un danno All'immagine La sua ditta Ma si è masciuto pazzo Scusatemi il termine Ma siamo veramente Uscite pazze Tengo praticamente Poi a fare presente Una cosa Tengo a fare presente Una cosa Non so se qualcuno di voi Ha ascoltato il comizio Dell'altra controparte Qui in questa piazza Io sono stato Invitato ieri Mi sono trovato Per puro caso Scendendo dal comune Al cospetto Di Ogenio di Santo Mi ha detto Mi fai una cortesia Domani puoi fare Un piccolo intervento Di 5 minuti Probabilmente Sto a sporare E io ho accettato Perché rispetto L'amicizia E rispetto Praticamente La lista Perché sono tutti Giovani Sono tutti quanti Motivati Ora Se voi avete ascoltato Se voi avete ascoltato L'invito Dei candidati Presumibilmente Un palco Come questo La settimana Ascolta C'è stato qualcuno Che ha detto Che lui è salito Sul palco Per rispetto A Capone Ma vi rendete conto Ma siamo ritornati A baciamano Ai mamma santissimi A rispetto Di vostia Non mi venite a dire Che questi sono giovani Perché l'ha detto uno Che è padre di figli Una persona di ultra 40 anni Che viene a dire Io sto sul palco Per rispetto A Capone Ma dove stiamo E l'altra cosa Poi da ridere Poi da ridere Un'altra gentildonna Che dice Io poi sto su questo palco Perché mi ha costretto Il mio marito Ma la fai O non la fai La politica Ma la fai O non la fai La politica Cioè Tu fai la politica Perché tuo marito Per mascherare La sua faccia Perché ormai È impresentabile Sali su questo palco Ma stiamo a dare I numeri Stiamo a dare Scusatemi il termine Ma stiamo dando I numeri E io non credo Di dire L'immaginata Ma arriverà La quindicesima querela Ma chi se ne frega Fanno intervenire Poi Tra virgolette Scusatemi E mi querela pure lui Un rinnegato Una che stava Cinque giorni fa Con noi E ora sale sul palco E poi chiede anche Scusa Perché sei impappinato Dopo cinque anni Di esperienza politica Chi si impappina ancora Leggendo sopra Iphone Non riuscendo a capire niente E poi se ne esce fuori Con la frase Io in cinque anni Ho fatto il bene Dei santo alpinesi Ma perché Ma che volevi fare Ma che volevi fare In cinque anni Ho fatto il bene Dei santo alpinesi Ma probabilmente Hai chiesto il bene A un genio di santo In cinque anni Altro che bene A santo alpinesi Non mi dilungo di più Non mi dilungo di più Vorrei solo dire Francesco segretario Lo devi fare per forti Qui dentro C'è tutto quello Che noi abbiamo fatto In cinque anni E' tanto 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 Tantissimo E' chiaro E questo dovrebbe smontare Tutti quelli Che hanno il coraggio Di dire Che in questi cinque anni La nostra amministrazione Non ha combinato niente Se incominciamo a leggerlo Ci vuole un'ora Non dico un'ora Tre quarti d'ora Per leggere tutto questo libro Con i programmi Che noi abbiamo Totalmente completato I nuovi programmi E' inutile che ve li dico Perché ci saranno Sicuramente altri oratori Di me C'è soltanto Nel programma Qualche cosa di importante Che probabilmente Loro non leggono Perché a loro Non fa piacere C'è la partecipazione Dei giovani La partecipazione Dei giovani Che è fondamentale C'è la futura amministrazione Ha come punto di riferimento Fondamentale Quello della tutela Dei giovani In qualsiasi modo Facendolo far parte Di cooperativa Facendolo far parte Di collaborazione Dando una mano al comune Cioè i giovani Devono essere incentivati Anziché stare A perdere il tempo Priorità della prossima amministrazione Sarà questa Io chiedo scusa A tutti Se mi sono dilungato Vi abbraccio Vi voglio tutti bene E auguro E auguro A questi Nostri candidati Il più grande E più bel futuro Per la prossima Conciliatura Grazie Buonasera Non andare in via Solo Alberto Alberto Scusa un attimo Prima di presentare Il prossimo Intervento Voglio ricordarti Che tre ignoranti Ci capiamo Volterra Nel 1700 Diceva Chi non cambia È un imbecille E lo diceva Volterra E Volterra Non era nessuno Come qualcuno di noi In ogni caso Ricordati Che si tradisce in amore In politica Si sceglie E noi abbiamo scelto E Eugenio Di Santi Ecco Voglio presentare L'ultimo dei candidati Non ancora presentati Perché era andato Via Il nostro Carissimo amico Angelo Lettera Due parole All'assessore Brasiello Che vuole spiegare Molto evidentemente Che le cose che ha detto Stamattina Capone Le ha lette male Buonasera Buonasera Stamattina Sono stato fatto oggetto Di un attacco personale Da parte di questo signore Che ha iniziato il suo intervento Dicendo Bisogna abbassare i toni Dopodiché mi ha detto Che sono un ignorante Che sono un parassita E che non sarei mai stato eletto In consiglio comunale Allora oltre diciamo a queste cose Diciamo che Sono tutte non vere Ma Io voglio dire Al signor Francesco Capone In arte Amministratore delegato E in arte Diciamo Uno che all'improvviso Ha vinto Un superenalotto E molto dispensa Posti di lavoro A destra e a manca Cercando di carpire Cercando di carpire La buona fede E il bisogno Soprattutto dei cittadini Che lui Non ha l'autorità Né morale Né culturale Né politica Non di dare dei giudizi Su Salvatore Brasiello Perché Salvatore Brasiello Alla fine È un umile servitore Di questo territorio Ma su nessun cittadino Di Sant'Erpino Lui O Si Si deve Confrontare Si può Confrontare Sulle cose Che gli ho detto Che non ha risposto A niente Non ha risposto Sulla questione Del presunto Dissesso del comune Non ha Ha risposto E ha balbettato Delle Diciamo pure Delle stronzate Sulla questione Della restituzione Della Tarso Ai cittadini Non ha risposto E ha balbettato Sulla questione Della camorra Perché ha detto Guardate Dice No ma Ma poi alla fine Qua a Sant'Erpino Nel corso di questi anni Della precedente amministrazione Sono state ditte Che hanno vinto Degli appalti E va bene Poi che sono camorristi Che fa E sulla storia E sulla storia Del rica Fabozzi Che vi ricordo Diciamo perché Era una cosa Diciamo che ho detto Domenica Che era Un esponente Del partito democratico Votato dall'intera sezione Del partito democratico E fatto votare Ai cittadini Che è stato accusato Con accuse gravissime Di essere Di essere Il referente politico Del clan Dei Casalesi Lui Ha detto Che E beh Qual è il problema Pure Nicola Cosentino Che voi avete In mezzo a voi Avete qualcuno Che ha votato Nicola Cosentino Caro Caro Capone Io capisco Che ti mettono Dei discorsi in mano E tu li leggi Sei un inconsapevole Non ti voglio offese Sei un inconsapevole Ma devi sapere Che a Sant'Erpino Ci sono due referenti Storici Di Nicola Cosentino E io su Nicola Cosentino Non ho niente da dire Perché Sta in galera Purtroppo Ed è una persona Diciamo Che è in attesa Di un giudizio Quindi Una situazione Molto grave Ma i referenti Veri A Sant'Erpino Di Nicola Cosentino Sono i fratelli Savoia Ma che dici Tu non sai manco Quello che dici Dici che io Non sono mai stato eletto In consiglio comunale Ma dal 94 Al 98 Ho fatto il consigliere comunale E letto Ho fatto il capogruppo Consiliare Per quattro anni Dei progressisti E popolari Adellano E se lo dovrebbe ricordare Il sindaco Della Versane Che sicuramente Se lo ricorda Ma se lo dovrebbe ricordare Anche Il fortunato E il pito del prete Che fece Il vice sindaco Non essendo stato eletto In quella legge Se lo dovrebbe ricordare Anche Giuseppe Savoia E sulla storia Poi perché Viste che lui Diciamo Gli passano le carri Gli passano Spanò No Che Spanò Mi sembrano Spemorati di Collegno Dici delle cose Per dirle No Dici Brasileo non è stato Mai eletto Poi Si dimesse Savoia Non si è dimesso Nessun Savoia Nel 98 Per entrare in Brasile Si è dimesso Aldo Zullo Quindi ricordi male Io non ho tradito nessuno Ho legato il regolo Perché ho fatto una battaglia Contro Savoia Per non farlo fare sindaco Purtroppo C'è diventato sindaco Dopo ho iniziato Una battaglia Insieme a Ucciani Sante E a tanti amici Che stanno qua Per mandarlo a casa E ci siamo riusciti Quindi questa è la realtà Le cose che ti dice Spanò Valle a verificare prima Perché sono tutte verificate Dici di fare delle brutte figure E dire delle sciocchezze Ma andiamo al nocciolo Della questione Perché lui Offendendo Diciamo personalmente Pensa di inibirmi Io l'offendo Quello poi Non ha il coraggio Di salire sul parco E vedi che dopo 3-4 ore Sono venuto qua Sono solo sul parco E non è nessuna difficoltà Ti potrei dire Ti potrei dire che la gente A San D'Arpino Conosce la mia famiglia La tua famiglia Ti potrei dire Che la gente a San D'Arpino Conosce me E conosce te Che sei un perfetto Sconosciuto A San D'Arpino Ti potrei dire Che 30 anni di politica A San D'Arpino Senza nessuna macchia Dimostrano Il mio percorso politico Il mio percorso personale E il mio percorso amministrativo Non so il tuo Io ti auguro Ti auguro di avere 30 anni di attività politica Non lo auguro Alla gente di San D'Arpino A te te lo auguro In altri liti Probabilmente Ma veniamo poi Veramente al noccio Allora Due cose fondamentali Ha detto L'hanno detto pure altri candidati Ma l'ha detto lui Qua Evidentemente Noi stiamo vivendo un sogno Allora Lui promette posti di lavoro Lui dà posti di lavoro Lui Lui in costanza Di un impegno elettorale Praticamente Fa quello che si dice Voto di scambio Perché se vado In una casa di una persona E ti dico Domani mattina vai a lavorare Questo è il voto di scambio Caro Francesco Capù Non è che dici Io perché dal 2001 Tu dal 2001 Innanzitutto non eri nessuno Non eri nessuno E dal 2010 Invece Che ti sei Che ti sei Mostrato Diciamo pubblicamente Con queste due attività E ti voglio dire pure un'altra cosa Viste che tu scendi a delle bassezze Ci sono dei testimoni Tu sei venuto sul comune Da me Perché mi volevi Volevi vendere al comune Non a me Un 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 oggetto No Non era un oggetto Era un centralino Un centralino Che era una patacca E volevi 15 mila euro Il comandante Dei vigili urbane Che è anche il responsabile Del centro Ha detto Salvatore Non lo possiamo comprare Questa cosa Allora tu Sei uno che fa i pacchi Tu sei uno che Storicamente Fa i pacchi Non è che tu devi ricordare Gli episodi Io ti ricordo per un solo episodio Sei venuto da me Io ti ho presentato gentilmente I responsabili del servizio I responsabili del servizio Ti inerpichi Eppure gli altri candidati Dici no Quelli vanno promettenti I posti di lavoro Ma veramente tu Pensi che noi abbiamo L'anello al naso Tu Nelle poche case Che ti fanno entrare Solo questo racconti Nelle poche case Che ti fanno entrare Allora Non puoi dire Che noi facciamo Delle promesse vane Noi non abbiamo niente Da promettere Se non L'attività che abbiamo svolto Per il popolo di Sant'Arpino L'attività Che abbiamo svolto Sul comune E l'attività Che abbiamo portato Col programma Alla gente Solo questo Possiamo promettere Non possiamo promettere Né soldi Né posti di lavoro Ma Se poi Vediamo Diciamo In fondo Anche i posti di lavoro Che vengono promessi Sono posti di lavoro Cari amici Se c'è qualcuno Tra di voi Che Purtroppo Ha un bisogno Io non vi dico Di non prendere Il posto di lavoro Del signor Capone Io non vi dico Di non credere Le promesse Ma sono promesse Fino al 27 maggio Dopo il 27 maggio Il tutto svanirà Perché questo signore Noi crediamo Che non sono eletto Perché anche questa piazza Testimonia Che lui Ha già perso Però Però Quello che capiterà Capiterà Tutti questi Questi illusi Purtroppo Che hanno pensato Di risolvere Il loro problema In una maniera obliqua Andando dal signor Capone Avranno Diciamo Una brutta sorpresa Ma io Lui È Un poco uscito Fuori dai gangeri Perché Io gli avevo detto Delle cose Gli avevo detto Che lui Era un utile idiota Allora Dato che lui Evidentemente Ha fatto delle scuole Bassissime Non sa Che L'utile idiota È una frase Attribuita A Lenin Quindi Non al primo Diciamo Che passa Per la strada Che la utilizzava Per i politici O i giornalisti Occidentali Che secondo lui Poi Diciamo Con i loro ragionamenti Tergiversavano E quindi Erano degli utili Idiota Contro La rivoluzione Russa La rivoluzione Dottobre Allora io Date che tu Non lo vuoi Questo Questo Di Io tolgo l'utile E ti lascio Solo l'idiota Perché uno Che non sa nemmeno Uno che non sa nemmeno La storia Uno Che Non sa Quello che dice E si fida Ciacamente Di quello Che gli scrivono E dice Delle sciocchezze Pure sulla questione Per esempio Del banca alimentare Tutti gli oratori Stamattina Si sbracciavano Ma questi Porto di pacchia A casa della gente Allora innanzitutto L'associazione Padre Ziello Niente a che fare Con l'alleanza Democratica Per San D'Arp Ma al di là Di questo Da anni L'associazione Padre Pasquale Ziello Fa attività Di volontariato E fa attività Che aiuta Aiuta Le famiglie Che Chiaramente Sono in difficoltà Non c'è niente Di male Non c'è niente Di male Non c'è niente Di male E In questo In questo caso Nessuno Andrà a chiedere Voti Perché ha portato Il pacchia A casa di una persona Perché quelle persone Che vengono aiutate In forma Anonima Non c'è nessun Non c'è nessun computer Dove stanno iscritti Gli indirizzi Ci sono solo le memorie Chiaramente Delle schede Che vengono tenute Riservate Perché riservate Devono essere Come Riservate Devono essere Le persone Che vengono aiutate Con l'indennità Di carica Del sindaco Perché Perché pure stamattina È stato detto Che l'indennità Di carica Del sindaco Non viene utilizzata Per i fini Che il sindaco Aveva dichiarato Ma innanzitutto Voglio dire una cosa C'è Io È come se io No Stasera Sto qua Con alleanze Democratiche Di Sant'Alpino Domani mattina Me ne andate con Capone Quello che dico Stasera Non vale più No La coerenza Come dicevo Francesco È un'altra Se ci sono delle persone E ci sono delle persone Che stanno Con il signor Francesco Capone Che Venivano Perché me l'ha detto Il presidente Venivano Sono consiglieri comunali Ex assessori Capogruppo Venivano E dicevano Senti Ci sono delle famiglie Bisognose Posso prendere Degli aiuti alimentari E il presidente Gliel'ha dato Allora il presidente Lupoli Era una brava persona Ora invece Non è più una brava persona Il presidente Lupoli Non ha servito A disante È una persona Che Non ha nessun titolo Per parlare È una persona Che deve essere Solo Offese E dileggiate Da persone Tra le altre cose Perché Quando si parla Di parassiti In questo comune Dovete sapere Che nel tempo Dal 94 a oggi Sono pagati Milioni di euro Per non far andare A lavorare Savoia Del prete E pure Iorio Allora Questi sono Dei parassiti Ma quella La legge Ce lo consente Benissimo La legge Ce lo consente Ma non vi consente Di chiamare parassiti Gli altri Perché voi Non solo Non siete andati A lavorare Non solo Avete percepito Un'indennità Di carica Che è unita Allo stipendio E è arrivato Pure a 3, 4, 5 mila euro Ma poi Avete anche il coraggio Di criticare E di dire Delle bassezze Nei confronti Di persone Che vivono Onestamente Del proprio lavoro Allora Queste cose Queste cose Sono cose gravi Che non possono Lasciare Io capisco Gli amici Ma tu non devi Andare sul personale Però se noi Tralasciamo Di rispondere Su determinate cose Evidentemente Poi Diciamo Quello che è La vulgata popolare Diciamo Però voi Alla fine Ve le siete tenute Nei da risposta Invece no No Allora io Lo avviso Al signor Francesco Capone Alla sua banda Che Se voglio Tenere il confronto Alto Io lo tengo Pure alto Se lo voglio Tenere basso Io lo tengo Più basso Di loro Perché Ho argomenti Ho notizie Ho tutte le possibilità Di arrivare Ognuno Di loro Perché Ognuno Di loro Ha gli scherzi Nell'armadio Ed è inutile Che fingono È inutile Che fingono Di fare i moralisti Perché mi acchiappano Personalmente Non lo dovevi dire Quella cosa Ma scusate Ma io ho fatto Un ragionamento Politico L'ho chiamato Un di l'idiota Perché Alla fine Lui che è un nuovo Si è messo Con tutta la gente Una classe politica Vecchia Trasandata E che ha inguaiato Questo paese Perché se ci sono Dei guai A Sant'Arpino Se il popolo Di Sant'Arpino Rischia Che il comune Vada in dissesto È perché Nel tempo Gli espropi Per le varie opere Che diceva Stavattita Capone Non sono stati pagati Il campo sportivo Più di un milione Di euro E certamente Non l'ha fatta La Giunta di Sant'Arpino Stiamo parlando Degli anni 80 Il parco archeologico 700 mila euro Si devono ancora pagare Di espropi Per non parlare Della scuola elementare Della zona Paradiso Altri 700 mila euro Di espropi Per non parlare Del parco Cirillo Altri 500 mila euro Di espropi Per non parlare Del cimitero Dell'autofinanziamento Al cimitero Hanno sforati 100 mila euro Per non parlare Del prolungamento Di via Zia 250 mila euro E questi sono Alcuni esempi E tutte queste opere Gli espropi Non l'ha fatta La Giunta di Santo Quindi non abbiamo Nemmeno Un centesimo Di responsabilità Su queste cose Se il Comune di Sant'Arpino Vive delle difficoltà E per via Di queste situazioni Non per altre situazioni Allora se C'è stato Un'amministrazione Allegra Nel corso Di tanti anni Vi sono Delle responsabilità Precise Vi sono Delle responsabilità Precise Che noi porteremo Pure davanti Alla Corte dei Conti Poi Un'altra cosa La voglio dire qua Diciamo Un'altra bassezza Che è stata fatta Stamattina Ma non a me Perché voglio dire Io sono cattolico Vado in chiesa Eccetera Eccetera Ma non è che Tu approfitti Che tiene la piazza Convenzionalmente Abbiamo deciso Che a mezzogiorno O meno un quarto I comizi Devono finire Perché deve iniziare La santa messa Domenicale E invece Tu che fai Sfori E vai fino a mezzogiorno E un quarto Mezzogiorno E fin Con la risibile Scusi Dici Pure io sono cattolo Pure io ho un parente Che sta nella chiesa Eccetera Eccetera Però alla fine Non te ne importa niente Il parroco in chiesa Ha dovuto interrompere La messa Questa è la realtà Di questo signor Mi risulta Che oggi pomeriggio Ha scantonato Pure con una nostra Rappresentante Che è andata A un convegno E a un dibattito Per quanto riguarda Diciamo L'ecologia Perché lui è abituato A parlare Evidentemente Da padrone E non da candidato sindaco Che quando Alla fine del comizio Ha detto Votate Non la lista Libera e democrazia Votate Francesco Capone Se l'ha detto stesso lui Ma questo è ridicolo proprio Ma questo Ma questo è un piccolo segnale Per dire Che lui Evidentemente Pensa Pensa Di essere Superiore a tutti Ma qualcuno Glielo deve dire Senti Capone La politica è un'altra cosa Tu devi essere umile Devi essere una persona ragionevole Devi fare dei ragionamenti In mezzo alla gente Non ti devi Non devi fare Quei ragionamenti Da supponente Da arrogante Da tracotante Io ho fatto Tu elettoralmente Una volta Hai appoggiato un candidato Che ha preso 50 voti Quel candidato Aveva pure famiglie E magari qualche parente E questa è la tua storia politica A San D'Arpino Nient'altro Allora Se tu ti puoi confrontare Con me O con gli altri Della lista Sui programmi Senza dire sciocchezze Senza farti scrivere sciocchezze Senza dire sciocchezze Senza dire Cose personali Noi siamo pure pronti Che non abbiamo paura Lo facciamo in piazza il confronto Non lo dobbiamo fare nemmeno nel Palazzo Duquare Ma se tu invece Intendi Il confronto Dicendo le sciocchezze Che hai detto stamattina Eludendo Tutti i ragionamenti Eludendo La presenza di Angelo Brancaccia A San D'Arpino Che è lui l'ispiratore Di questa lista Allora Allora non ci siamo Non ci siamo Perché E' il punto di partenza Che è sbagliato E' il punto di partenza Che è sbagliato Noi Io te l'ho detto domenica scorsa Noi con Angelo Brancaccia Abbiamo fatto un percorro L'abbiamo pure difeso Quando è andato in galera Perché non siamo abituati Come te A dire Che è il sangalera Basta E' finito Noi ti amagliava No L'abbiamo pure difeso Però Angelo Brancaccia Ha fatto un percorso Politico e amministrativo E' stato sciolto Il suo comune Per infiltrazione camorristica E' stato tre anni E' stato tre anni il commissario Altra che Cricignano Da 12.000 E' passato a 25.000 euro C'è un deturpamento del territorio A Torta diatella Che non ha simili in Italia Allora a questo Può darsi Che non sai parassite Che significa Allora vatti a vedere Il vocabolo Vedi parassite E vedi che alle tue spalle Quando parli Ce ne sono parecchi Buonasera Allora Buono buono Ci ha atteso Tra voi Il nostro candidato a sindaco Vorrebbero parlare tutti I nostri candidati Cari cittadini Del centro storico Di zona stazza Ma adesso passo la parola A chi buono buono Ci ha ascoltati Al nostro candidato sindaco Eugenio Di Santo Carissimi concittadini Buonasera Piazza Lucio Battisti E' uno dei luoghi Nel nostro paese Che amo di più Una piazza di periferia Dove dopo esserci insediati Abbiamo messo in atto Una vera e propria opera Di recupero e di qualità La verificazione Perché cinque anni fa Questa piazza Era completamente abbandonata Così come tanti altri luoghi Simboli del nostro paese Trascurati per decenni E in condizioni Di totale degrado Qualcuno domenica scorsa Voleva far credere Che il degrado Fosse stato causato Dalla nostra amministrazione Ma poi Si è tradito da solo Come succede A chi mente Sapendo di mentire E ha ammesso Che questa piazza Era abbandonata Da sempre Oggi invece È bellissima Sì È bellissima Cari concittadini E lo è grazie ai lavori Voluti da nostra amministrazione Lo è perché noi abbiamo a cuore L'intero territorio comunale E perché il recupero Delle periferie Ha da sempre rappresentato Un punto fondamentale Nel nostro programma Quando ci siamo insediati Abbiamo trovato La rete fognare la rete La rete fognaria di via Puccini In condizioni disastrose Condizioni lasciate tali Da chi ha amministrato Prima di noi E domenica scorsa Ha avuto il coraggio Di denunciare Questo stato di cose Provocate proprio da loro La nostra è stata L'unica amministrazione In quarant'anni Che si è adoperata Per risolvere il problema E oggi Grazie alle pompe Che abbiamo fatto installare E grazie alle sollecitazioni Di uno dei residenti Ludovico Soreca Abbiamo in parte Risolto un problema Causato solo Ed esclusivamente Da chi ci ha preceduti E ci fa sorridere Pensare che Quelli che ci hanno preceduti Sono gli stessi Che oggi Predicano il cambiamento I problemi Si risolvono con i fatti E non con le chiacchiere Quelle che i nostri avversari Hanno fatto per decenni Stringendo le mani A destra e a manca E creando i problemi Anziché risolverli I santarpinesi Sanno bene Che questa piazza Oggi è così Solo grazie a noi Ancora una volta Sarebbe stato meglio Per voi Restare zitti Avreste fatto Più bella figura Prima di approfondire Alcuni punti Del nostro programma È doveroso per me Passare qualche minuto Alla questione Del progetto Del centro commerciale Che sorgerà Nell'area Attiva Al Teatro Lendi Come mai Cari avversari Vi fa tanto saltare i nervi Sapere che La nostra amministrazione Nonostante la grave crisi economica È riuscita a mettere in atto Azioni importanti Come questa E lo ripeto Grazie all'approvazione Del SIAD Nel nostro paese Nascerà un centro commerciale Che creerà Grande opportunità Di occupazione E di rilancio Per i nostri concittadini Tutto il resto È solo squallida demagogia E poi Chi promette Posti di lavoro inesistenti Da quale pulpito Arriva la predica Chi è assunto E ha licenziato A distanza di pochi mesi Solo per propaganda elettorale Bisogna avere La coscienza pulita Cari avversari Prima di giudicare gli altri E voi non ce l'avete Solo un'ultima cosa Come vi permettete Di insinuare Chi viene ai nostri comizi Che sia pagato O costretto Probabilmente Non avete argomenti E soprattutto Non avete idea Di cosa significhi Decidere liberamente Come fanno tutti coloro Che accorrono Ai nostri comizi Come stasera Tutti i cittadini Che sono qui oggi E che sono stati con noi Negli ultimi appuntamenti precedenti Lo hanno fatto Perché ci sostengono Liberamente E con convinzione E perché insieme a noi Vogliono vedere realizzata Una Sant'Alpino migliore Ancora una volta Avete offesso i nostri concittadini E chiedo scusa a loro Da parte vostra Cari concittadini Noi di alleanza democratica Abbiamo preso un impegno importante Con voi Quello di rendere tangibili I risultati Ottenuti negli ultimi Cinque anni di amministrazione Anche questa volta Mettiamo la nostra esperienza E il nostro impegno A disposizione Del nostro amato paese In un percorso In cui crediamo Con assoluta convinzione Il nostro programma elettorale Del quale stiamo discutendo Con voi Nelle vostre case È un proseguimento Di quello che è accaduto Negli ultimi cinque anni A Sant'Alpino Un programma Che mette in primo piano Le politiche giovanili E occupazionali La riqualificazione Dell'abbiende Del territorio Il sostegno Alle famiglie bisognose Che aiuteremo Ancora di più Grazie al 500.000 euro Che risparmieremo In cinque anni Rinunciando alle nostre indennità Che destineremo Alle politiche sociali Completeremo I lavori già iniziati Al centro sportivo Ludia Dellani Uno dei luoghi Oggi più belli Di Sant'Alpino Dove bambini Giovani Adulti Possono finalmente Praticare sport Liberamente E con sicurezza Tutto Era stato trasformato Da chi ci ha preceduti In una discarica Al cielo aperto Montagne di rifiuti Di ogni genere Impedivano Ai tanti Sant'Alpinesi Grandi e piccoli Di decarsi Con tranquillità Nella struttura sportiva Noi ci siamo rimboccati Le maniche E abbiamo restituito Il Ludia Dellani A voi Sant'Alpinesi E se ci ridarete La vostra fiducia Grazie al finanziamento Ottenuto Di erbetto sintetica E recintato Saranno rimesse a nuovo Le tribune E sarà costruita Un'apposita copertura Dove saranno ricostrutturati Inoltre Gli sfogliatoi E sarà fatto Un restail In totale Del muro perimetrale Del campo da calcio E poi Grazie a noi Sant'Alpino E sarà il primo Asilo d'Indo comunale Dell'intero Agua Versano Appena insediati Infatti Ci siamo impegnati Per ottenere Il finanziamento Che oggi Finalmente In realtà L'asilo d'Indo Si inserisce Un ampio piano Di opere pubbliche Che abbiamo programmato Fin dall'inizio Del nostro mandato E di cui abbiamo Ovviato la progettazione Opere innovative E di straordinaria rilevanza Che hanno colmato I vuoti Di infrastrutture E servizi Creati da chi Ci ha preceduti E non più tollerabili E tra queste opere Si inserisce Anche l'attento struttura Che soggerà Nel parco giochi rodari Un'opera pubblica Dall'importanza fondamentale Che sarà funzionale E lo svolgimento Sia di attività fisica Per gli alunni Della sede Distaccata Delle recive Sia di attività Sociali Culturali Sportive E ricreative Dell'intera cittadinanza Insieme Cari concittadini Abbiamo la possibilità Di migliorare La qualità Di vita Di ognuno Di noi Perché per noi Di alleanza Democratica Il bene pubblico È un bene Da salvaguardare E da valorizzare Sento il dovere civile Di continuare A affrire Il mio paese Un'alternativa Credibile E soprattutto Con risultati certi Sant'Arpino Ha bisogno Di persone Che l'amano Grazie a tutti E buona serata